Domenico Di Morpetta è un super tecnico a cui sono state affidate sia la scuola che la formazione che le politiche sportive. È un allenatore olimpionico, è stato un campione olimpionico ma è soprattutto una persona competente, una persona che si spenderà moltissimo per questa delega tessorile. Io di emozioni ne ho vissute tante, non nella mia vita, quelle sportive, quelle familiari eccetera però oggi devo dire che sono più emozionato di un'olimpiade perché so che come avete già detto tutti abbiamo una responsabilità pesante, molto grossa, però venendo dallo sport chiaramente qui si deve andare avanti. Credo poi nello Stato, nel lavoro comune. Io ringrazio, a parte Cono che ha già ringraziato Giulio ma ringrazio anche la nostra sindaca perché ha pennellato questo assessorato su quelle che sono effettivamente le mie competenze sportive, istruzione, anche ricerca perché io ho un dottorato di ricerca quindi mi trovo benissimo, so che dobbiamo fare parte. Guarda che c'è pure la manutenzione scolastica, il labbra e i corni da morire. E mi sono bravissima sui muri. E me te, eh? Certo, quindi mi fa molto piacere però stavo dicendo che credo molto e mi fa piacere perché questo credo che sia un gruppo molto competente e credo anche che ci sia un interscambio tra gli assessorati perché nel momento in cui si può parlare di sport o di istruzione e soprattutto lo sport poi è veramente con le mille facettature e comunicanti un po' con tutti.